Mercoledì mattina alle 7 un piccolo gruppo di persone, volontari della comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, ha sostato in preghiera, come ogni settimana, davanti all'ospedale Sant'Orsola per ricordare i bambini che stanno per essere abortiti e ricordare anche le loro mamme. Tra loro il responsabile generale della comunità Paolo Ramonda. La comunità è vicina alle donne in difficoltà, offrendo accoglienza e anche garantendo, in caso di necessità, il parto in anonimato. Sono stati 612 i bambini abortiti nel solo Sant'Orsola nel corso del 2015, ma 3 su 4 delle donne a cui è stato offerto un aiuto concreto hanno deciso di non abortire. E' attivo un numero verde per queste necessità, 800 035 036.